Sono oltre 526.000 le assunzioni previste dalle imprese per il mese di settembre, circa 91.000 in più rispetto allo stesso periodo del 2019. Nel trimestre settembre-novembre le aziende hanno in programma di assumere 1,5 milioni di lavoratori. A delineare questo scenario è il bollettino del sistema informativo Excelsior, realizzato da Union Camere e Ampal. Prende dunque velocità la domanda del lavoro, sostenuto dal buon andamento dell'economia italiana, sebbene a livello mondiale stiano emergendo crescenti tensioni per il costo dell'energia e di altre materie prime. L'industria programma per il mese di settembre 156.000 entrate che salgono a 436.000 nel trimestre settembre-novembre, in crescita rispettivamente del 24,8% e del 29,1% rispetto al 2019. Si consolida la ripresa del manifatturiero con 114.000 entrate nel mese e 317.000 nel trimestre. Le imprese sono i principali finanziatori della ricerca in Italia. Stando al report dell'Istat, nel 2019 la spesa monta a 26,3 miliardi, con un'incidenza percentuale sul PIL pari all'1,47% e in crescita rispetto all'anno precedente. Le imprese hanno investito in ricerca e sviluppo 16,6 miliardi con un peso pari al 63,2% del totale, che resta invariato rispetto all'anno precedente. Per il 2020 i dati preliminari indicano un brusco calo, mentre per il 2021 si prevede un recupero importante, con un aumento del 6,2% rispetto al 2020. Le misure ristrettive per la pandemia di Covid-19 e il cambiamento delle preferenze di viaggio hanno avuto un forte impatto sul settore dei trasporti, compresi quelli in treno. Secondo i dati Eurostat, nel primo trimestre del 2021 il numero di passeggeri ferroviari è rimasto nettamente inferiore a quello dello stesso trimestre di un anno fa, quando il Covid-19 non aveva ancora un impatto tangibile sui paesi dell'Unione Europea. Il calo maggiore è stato osservato in Irlanda, con meno 8,4 milioni di passeggeri rispetto al primo trimestre del 2020. Seguono Grecia, Slovacchia, Paesi Bassi e Danimarca. In Slovenia e Bulgaria il calo è stato invece molto più contenuto. Il PIL a più 5-8% è un trend positivo che potrebbe, ahimè, avere una frenata prossimamente. Ricordiamo che tra non molto finiranno i bonus, finirà la cassa integrazione, i lavoratori potranno essere licenziati. Ebbene, noi ricordiamo al governo quanto può costare un lavoratore licenziato o quanto costa un'impresa che cessa un'attività. Ne prenda atto il governo stesso e faccia provvedimenti che incentivino le assunzioni o le imprese che non licenziano.